Mattia Quargetta Laura Laforgia Come internet ha cambiato le vostre vite? La velocizzate In che senso? E non lo so, è tutto molto più rapido Cioè che esce ad accedere alle informazioni in maniera più E con i social come? Ha peggiorato la grande Ha appiccicato bene Cioè ti ha indicato un peggioramento Sì, parli molto meno con la gente Non lo so, io faccio il giardiniere È che tutto vuol dire, dai Non lo so Parolacce No, è da rifare Va bene